Gianni Bonelli, direttore generale della SST Sette Laghi, a poche ore dall'apertura del centro vaccinale all'interno del padiglione Santa Maria per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni per il vaccino anti-covid, quali sono le sfide che la SST sta affrontando perché non è solo questa seppure impegnativa? Sì, sono parecchie in questo momento le sfide che stiamo affrontando e le stiamo affrontando anche consapevoli che abbiamo una squadra intorno a noi di medici, infermieri, operatori di tutte le categorie amministrativi, insomma tutta l'azienda come in tutta la fase emergenziale sta rispondendo benissimo e sicuramente quella delle vaccinazioni è una delle sfide più impegnative però insomma noi purtroppo siamo di nuovo uno degli ospedali più colpiti per quanto riguarda il recovery covid quindi anche quella è particolarmente importante così come stiamo cercando di portare avanti anche tutta l'attività per i no covid quindi stiamo cercando di portare avanti gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati di recuperare e ridurre le liste d'attesa sugli interventi chirurgici, sull'attività ambulatoriale così come stiamo anche portando avanti i progetti finanziati dal PNRR quindi di sviluppo della sanità territoriale. Noi stiamo cercando di portare avanti tutto ce la stiamo mettendo tutta e devo dire che appunto troviamo molta collaborazione da parte dei nostri così come troviamo collaborazione da parte delle associazioni di volontariato che stanno continuando a supportarci però con un'opera incomiabile e devo dire che anche per quanto riguarda le organizzazioni sindacali stiamo riscontrando un grande senso di responsabilità e di correttezza ovviamente nel rispetto dei reciproci ruoli che abbiamo. Quindi insomma una macchina che sta lavorando a pieno regime vogliamo continuare a essere un punto di riferimento importante un punto di riferimento apprezzato dalla popolazione insomma come avevamo detto un po' di tempo fa nella precedente intervista noi non vogliamo lasciare indietro nessuno vogliamo rispettare le nostre promesse vogliamo rispettare soprattutto la nostra mission. Dobbiamo dare una risposta positiva ai bisogni della popolazione da un punto di vista sanitario e in questo momento veramente vogliamo superare la sfida che ci viene posta.